Allora Presidente, siamo in questo reparto davvero molto bello, dove siete riusciti a fare un grande lavoro. A che punto siamo intanto? Il reparto di neurochirurgia e neuropsichiatria è fatto, è consegnato, è bello, lo stiamo godendo, lo stiamo vivendo tra i bambini che sono qui ricoverati e i ragazzi che sono qui ricoverati. Adesso ci aspetta il prossimo traguardo, quello di fare una cosa equivalentemente, diciamo, l'altezza, l'equivalente dignità per i nostri ragazzi, giù nel Day Hospital, dove i bambini e i ragazzi quotidianamente vengono per avere tutte le varie cure. Pensate che noi nel Day Hospital abbiamo non solo bambini di neurochirurgia, non solo bambine di neurochirurgia, ma anche autistici, epilettici, insomma cose molto gravi. Lì dobbiamo fare un super lavoro all'altezza dei bolognesi, all'altezza di Bimbo Tu. Questo sarà il nostro prossimo traguardo e perciò ci stiamo mobilitando, stiamo chiedendo aiuto di tutti quanti, di amici nello spettacolo, perché si arrivi in tempo breve con l'efficacia giusta a fare questo Day Hospital così importante. C'è stato che ci hanno messo un gobo, poi non lo inquadriamo per correttezza, però in realtà cosa succede il 7 novembre? Ma il gobo non è vero, c'è un pezzo di carta, lo dico. Il 7 novembre ci sarà uno spettacolo molto esilerante, si chiama Noi ci siamo, ci sarai anche tu, poker d'assi al Duse, una cosa molto bella, ripeto esilerante, con Andrea Mingardi, Vito, Migone, poi insomma non ne racconto tutto quanto, se no poi tolgo il bello. Ma vi aspetto, vi aspetto davvero numerosi, perché non vediamo soltanto uno spettacolo, non ci divertiamo soltanto in una sera magica, ma sappiamo che quello che facciamo lo vedremo per anni qui al Bellaria, il nostro Bellaria di Bologna.